Parliamo adesso dei postulati di Clausius e Kelvin. Parliamo quindi del secondo principio della termodinamica. I postulati di Clausius e di Kelvin sono due postulati equivalenti. Questo significa che il postulato di Clausius implica quello di Kelvin e quello di Kelvin implica quello di Clausius. Se Clausius è vero, automaticamente è vero quello di Kelvin e viceversa. Per cui noi vogliamo non solo adesso enunciare i due postulati, ma dimostrarne anche la loro equivalenza. Quali sono i due postulati? Quello di Kelvin mi dice che non esiste una macchina termica che abbia come unico effetto quello di trasformare tutto il calore che assorbe in lavoro. Quello di Clausius mi dice che non esiste una macchina termica che in modo naturale possa trasferire calore da un luogo a bassa temperatura in un luogo ad alta temperatura, senza l'apporto di energia da fonti esterne. Queste due affermazioni, ovviamente differenti, sono tra loro equivalenti. Vediamo adesso innanzitutto di capire bene i due postulati. Riprendiamo un attimo il concetto di ciclo termodinamico. Abbiamo visto che un ciclo termodinamico assorbe calore ad alta temperatura, una parte lo trasforma in lavoro, una parte lo cede a bassa temperatura. Kelvin afferma che non è possibile trasformare tutto il calore assorbito in lavoro, ci deve essere necessariamente questa parte. Questo ciclo io potrei vederlo al contrario, vederlo come ciclo frigorifero. Immettere lavoro per spostare calore da bassa temperatura verso un'alta temperatura. Io posso effettivamente invertire il ciclo. Se inverto il ciclo avrei che entra lavoro, del calore viene estratto da un luogo a bassa temperatura e questi due confluiscono in un luogo ad alta temperatura. Questo è possibile perché io ho assorbito del lavoro dal mondo esterno. clausus mi dice che questa parte ci deve sempre essere. Non è possibile che l'unico effetto sia trasferire calore da un luogo a bassa temperatura verso un luogo ad alta temperatura. ora vediamo adesso come i due principi sono equivalenti. Cominciamo con il principio di Kelvin. ammettiamo che sia possibile assorbire calore da un luogo ad alta temperatura e trasformarlo tutto in lavoro. Io potrei associare a questa ipotetica macchina termica una macchina frigorifera che utilizza questo lavoro per spostare calore da un luogo a bassa temperatura e portarlo in un luogo ad alta temperatura. Ma se guardo queste due macchine insieme, quello che ho ottenuto è che il lavoro al mondo esterno non è stato né dato né né stato ricevuto. L'unico effetto è stato spostare la quantità di calore Q1 in un luogo ad alta temperatura. Questo era il postulato di clausius. Quindi il postulato di Kelvin dire non è possibile che esista questa macchina implica il postulato di clausius che dice non esiste questa macchina. Allo stesso modo adesso vediamo l'implicazione opposta. Prendiamo ad esempio il postulato di clausius. Supponiamo che esista una macchina termica che in modo spontaneo porti calore da un luogo a bassa temperatura verso un luogo ad alta temperatura. Io potrei associare a quella macchina una normale macchina termodinamica che assorbe del calore. Una parte lo trasforma in lavoro e una parte lo ceda a bassa temperatura. Scelgo questa macchina in modo che ceda alla stessa quantità di calore che è stata assorbita da questa. Questo calore estratto è stato poi riconsegnato quindi l'unico effetto di queste due macchine combinate insieme è che si assorbe del calore del TQ1 che viene direttamente trasformato in lavoro che è quello che mostro qua. Per cui se questa macchina non esiste necessariamente non esiste questa. Il postulato di clausius implica il postulato di Kelvin. I due postulati sono quindi equivalenti.